Salve, sono il vostro San Ten Chan, è di notte ormai e sono ritornato a casa. Niente, circa una settimana fa ho fatto il mio ultimo video e spero di farne altri al più presto, che siano interessanti. Adesso è molto tardi e vado a dormire. Ciao. Spero al più presto del nuovo materiale, spero vi possa piacere, che vi piaccia. Beh, mi raccomando anche di fare clic sui banner pubblicitari, io sono disoccupato, così mi date una mano a cambiare il mio parco tecnologico. Beh, domani vedrò di fare qualcosa. Grazie di nuovo per seguirmi e arrivederci. Ciao. 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 Adesso sono tornato, vado subito a dormire, che stanchezza, che buio, è notte fonda e io sono tornato a casa, spero che tutti voi stiate bene, farò cose nuove, tenete d'occhio il canale, ci saranno novità, ciao. Grazie.